Prima il campionato di Serie A, poi la Comer Race, la corsa a sostegno della lotta ai tumori al seno. Sarà un weekend all'insegna dello sport in città, si comincia domani alle 18 allo Stadio Olimpico con la sfida tra Roma e Inter. Come di consueto, già molte ore prima della partita, prevista dalle 18, scatteranno i divieti di sosta nell'area del Foro Italico, che lo ricordiamo è raggiungibile anche con il trasporto pubblico, con il tram della linea 2 e con altre 15 linee di bus. Domenica mattina, invece, tra le 10 e le 14, nell'area del Circo Massimo, la 24esima edizione della corsa a sostegno della lotta ai tumori al seno. Sono attesi 20.000 partecipanti per quel che riguarda il trasporto pubblico, sono previste deviazioni per 36 linee di bus.